e salve signorini rappepigni cuperigni benvenuti in questo nuovissimo video di Tarkovia dopo qualche forse una settimanina che ho portato quegli altri che non sono andati male sono contento e vabbè metto questo voice over sopra perché volevo dire di guardare la descrizione perché sono partner con Gportal e quindi c'è il link per avere un 5% di sconto su tutti i server insomma sul totale del server che andate a prendere e in più lo faccio perché già da un po' con il mio amico Shark abbiamo iniziato un podcast si chiama La Taverna dove noi copriamo le notizie videoludiche della settimana o comunque parliamo di cose nell'ambito videoludico che però può essere anche un film se è basato su qualcosa di videogiochi o insomma tutto quello che c'è una referenza a qualcosa di videoludico quindi se vi interessa qui in alto a destra vi lascio la prima puntata e vedete un po' voi che cosa fare e niente dai signori vi lascio il video perché sto già parlando troppo che tasti sto schiacciando? se hai portata? se hai portata la era l'ora vediamo che cosa c'è porco dio e cos'è ah vabbè dai un hk cos'è la cosa? ah la shrimp e qui? oh da esaminare questi colpi cos'è? sono i lager i lager andiamo via che non abbiamo più che altro che non abbiamo granate per tenere quella posizione e io c'ho un cucile ho visto un laser dove? era solo la mia testa mi sa che sono al due piani mi sa vabbè aspetta do un check a queste cassettine questa è piena c'è un micio e un vaso a quello lì ci sta un silenziatore in quel pompa? no sono già pesantissimi finchia granata non ti si è sentito lo so ecco l'ho visto il laser quell'altro è in mira oh c'è un altro merda si è un heavy bleed è un braccio rotto laser blu ancora? ma dov'è questo laser blu? da dove mi picca? non lo so dallo 2.14 no? io già ho fatto una gamba sicuro no non credo ancora qua ancora qua è un braccio rotto è un braccio rotto Non hai granate? No Perché non mi piace la porta aperta Di là, a sinistra Eh, lo so Eh, ora vado a chiudere, non ti preoccupare Sono senza armatura Allora, se tieni il corridoio di là, la vado a chiudere io Aspetta, aspetta Aspetta, perché mi sta tornando la cosa Se non vedo un caccio Se non mi vedo la frattura 2.14 aperta E l'ho aperta io Ok Eeeh, bravo lo cooper Cosa c'era Eeeh Eeeh Oh cazzo Porca, questo senza cure Vedo io No, io ho troppato i caricatori Vabbè, vabbè, aspetta Prendo le scure di qua Se c'è qualcosa Non c'è niente Qualcuno sale? Da dove? Scale Ferro Ci sono andato io Verso le scale centrali Ah, se tu Sì Quest'altro invece Che c'è Qua c'era un po' H Sa che mi prendo solo il mirino di questo Sì, ma piedi tutto Guardavo le cure Ma qua le cure se le tieni nel gamma Mi dai qualcosa? Sì Ci ho droppato i sale Non te lo prendi l'azzino L'ho visto qua? Eeeh Non so se C'è posto C'è posto poi Per tenere altre cose Devo vedere un po' Ci sto mettendo della roba dentro Eh Perché forse me lo potevo prendere Non lo so Perché volevo prendere il suo elmetto Prenditi il rig Aspetta, aspetta Aspetta Eh ma il rig Non me lo posso tenere Quanto è grande? Non ce lo fa No, è 3x3 Eh non ce lo fa Perché c'ho la sua gen Che non gliel'ho toccata Vabbè va bene così Sono a posto io Qui nei caricatori Che cosa aveva? Gli api Ok Allora li devo prendere anche I caricatori Aveva il smirino migliore sul coso Però Di quello che hai preso all'altro Allora scarico Ah la 103 Ok No pensavo Quella di lab No Di solito qua c'era lo spawn quasi fisso Di quella di lab Direi allora che è il momento di togliersi Se hai posto lì c'è la K Di quello lì attaccato alla porta Dove? Quello il morto Quello Nel corridoio Ah questo No Non è che sono veramente Con l'armatura che c'ha 18 punti Che armatura hai? Quella rig? Il rig Si va? Ma dov'è che si può saltare qui? Da sta porta qua Ok Ah no Ma la sono portata dietro C'ho la chiave per sta porta qua Che paura Mi hai fatto cagare addosso Io non posso saltare come te Non ci arrivo Ancora l'incastrato Eh C'ho 52 di peso Niente Devo passare da sopra Porca puttana Io sono nel due piani Eh De factory Arrivo Vado Vado sotto Ti sei su? Sei sopra? Perché tanto qui è già tutto aperto Salgo Hanno aperto tutto Tutto Anche dei accessi a porti Ah andiamo via Aspetta Stamina Avrei la G destra Ma fai È già aperta Quella di là l'hai vista? Si ho visto la porta aperta Della 114 No 104 Si Ah no Non ho visto Trovato nel mezzo Allora vediamo se riusciamo ad andarcene vivi Cerca Non lo vedo Ah lo vedo Figurati se non mi prendi al braccio Lasciamolo Eh ti ho dato una mano Prego Ho preso il braccio E petto Stai correndo da lui? No no Ho sentito correre Sono da destra Ho corso Ma sono da destra Ecco l'alto Non si capisce un po' E' l'ora della stamina Sto punto eviterei anche di guardare forse le case le stashe Andiamo andrì Tu hai della bella roba Tieni la corsa da parte Vabbè aspetta Me la metto a ricaricare qua dove c'è la stashe Ok ci so Si passa da sinistra Dobbiamo buttare qui per terra Che cazzo Ho visto un corpo per terra E ho sparato Che cazzo l'ha uccisa Non lo so però qua c'è un M4 Un Hadar Per caso quell'M4 Quell'Hadar C'ha un laser? No Non credo di aver visto un laser verde Però non lo posso prendere Eh l'M4 com'è? Eh standard Mh Ladar Ridem Ladar C'ha un Nacog sopra Che è stupido sto qua Che non ha capito come si fa E' stato ucciso da uno scab Ah lol Fammi vedere Ah ok no vabbè Lascia tutto lì Vado un po' in su Eh posso toglierci questo Non sa cuorci Qui c'ho lo zaino troppo corto capito Che c'ho lo zaino un po' troppo corto Troppo Tu c'hai troppo pieno C'erano C'erano scabala a Gartier Vabbè Fammi Però non è stato ucciso da lo Zovoskoi Beh C'è scritto in russo Che cazzo è questo Ok aspetta Mi ricarico un attimo qui nel casotto Via Oh madonna Mi son tolto la visiera Non riesco Non so più come si gioca adesso Un mondo nuovo C'è la visiera dell'alte Ti focussa in quello che hai davanti Ti fa? Riesci a focusarti in quello che hai davanti Sì A me mi piace La sensazione di tonne il vision Non mi dà un pezzo Oh do un occhio alla stascettina Così con la scusa mi ricarico Vabbè con la scusa mi ricarico la stamina Sì Quella che perdi per andare là Ti prego fa che sia Aperta Piena È aperta? Sì Dai hanno lasciato qualcosa Me lo sento Ah hanno lasciato due cose Vediamo PS E il metro Io metterei Quando non trovo un cazzo Le arrangio Con la forma del suca Anche questa aperta Cioè oggi appena aveva montato Avevo montato il mixer nuovo Quando parlavo si sentiva Tipo Wow 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 Mi sentiva così Quando parlo Quindi non capisco Rimodifico tutto Impostazioni Blah 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 Alla fine era sta merda di discord Che aveva messo lui Il suo compressore E tutte le sue cazzo di cose Audio di merda Discord del cazzo Nessuno gliel'aveva chiesto Ah bastardo Era sulle buche È sulle buche Quella a sinistra? Sì 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 Ascoltavo te Non ci ho pensato Ah Fatto È mezzo nudo Ti ho ammazzato? No l'ho fatto io Ma proprio Per iniziare Sicuro fosse uno Uno era Quello va Che fanno Danno al corpo 615 Danno All'armatura 748 Kill Zero Kill count Il count 19 La sta a vedere Che come Voglio guardarlo C'era qualcuno A camperare In qualche cespuglio Amede Livello 24 Lascio tutto qui Anzi Pilgrim Dai 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 Pilgrim Veloce via Che armatura Aveva Un pacca Quella c'aveva Ora Aspetta Controllo Perché Perché non me lo fa Foldare Cosa Il suo robettino Di merda Li Ciao al bar Pedo Mirino No No Vediamo se posso Riprendermi Un silenziatore Che ho droppato Yes Via Guarda Io non lo zeno Cosa c'avevo Un AKM Il gatto E un vaso Eh Tanto son pieno Che questo aveva Due elmette Interessanti No è vero Non avevo la stamina Non mi nasce Ma Il mio valo Lo vedo come se fosse Foldato Ma non lo è No Atti Ok Ok è una legenda 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 è una legenda